Non è sempre facile essere felici, è qui la scommessa. Quindi coraggio, prendete la motocicletta della vostra vita e insieme affrontate le strade che il Signore vi chiederà di compiere. Voi siete i nostri eroi. Voi siete i nostri eroi. Voi siete qui oggi per iniziare un cammino. E questo cammino né io né voi, caro Jodi, cara Serena, sapremo dove ci porterà. Ma sapremo che è un cammino bello, un cammino gioioso, se per gioia intendiamo amore. Se per gioia intendiamo la volontà di camminare l'uno accanto all'altro per sempre. La vita è fatta per chi ha il coraggio di affrontarla, per chi rimane anche nel momento del dolore e della sofferenza. Qualsiasi passo, qualsiasi salita ci sia da compiere. Sono questi gli eroi di cui noi abbiamo bisogno. La vita è fatta per chi ha il coraggio di un 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 coraggio. Siete voi i nostri eroi. Siate felici. Il mondo non ha bisogno di sposi perfetti. Voi siete un dono, l'uno per l'altro. Non dimenticatevi mai di questo giorno. La vita è fatta per chi ha il coraggio di un coraggio di un coraggio di un coraggio di un coraggio. La vita è fatta per chi ha il coraggio di un coraggio. La vita è fatta per chi ha il coraggio di un coraggio di un coraggio di un coraggio di un coraggio.